Salve, io sono Cristina, sono un operatore sanitario e volevo rispondere al signore Andrea Mandelli. Allora, lei ha parlato del fatto che le terapie intensive sono tutte piene di persone non vaccinate. Allora, io fino oggi alle 4, dopo di che sono stata sospesa, ma fino alle 4 ero in servizio, le persone che erano in terapia intensiva per Covid erano tutti vaccinati. Per cui non dite così perché non è vero. Si assume l'ospedale di questa cosa? Assolutamente sì, assolutamente sì. Dopodiché, io non me li parlano chiaro.